Parliamo subito di inizio settimana della barca di Flavio Briatore, perché è stato al centro delle polemiche di tutti, mentre alle nostre spalle c'è Lucchini che ha una barca anche lui ma dei debiti e quindi è meno interessato. Flavio Briatore ha avuto problemi perché la società alla quale aveva intestato la barca si chiama Force Bleue, quindi lui ha approfittato Flavio Briatore, capito il giochino? Per esempio se io volessi fare una barca con le mie iniziali dovrei fare una società che si chiama per esempio una società di esportazione di Baccelli, la Fava, LF, per dire quali sono gli escamotage. C'è qualcosa di più interessante da raccontare. No, volevo dire un'altra cosa. Ma direttore, lei non si fa rispettare comunque. Sono purtroppo le maestranze, ripigli così o c'è l'estra comunitaria che sono parecchio meglio. Va bene, un'altra cosa, ma scusa, secondo te hai pensato anche che il nome del figlio potesse riprendere, diciamo, dai si chiama Falco, Nathan, Falco Nata? Non solo, io credo che se li arredi, no, Galeran ci vai per evasione fiscale, ma io non te lo metto un concito, una voliera, il Falco non te lo metto. No, hai ragione, quindi voglio dire... Andate a sentita la lipo, se c'è qualcuno te la lipo. Poi tra l'altro chiudiamo questo saluto di inizio settimana dicendo che noi scambieremo volentieri un Locchini con un gommone d'albanesi, si dà anche la giunta. Va bene, allora, Luca preparati, fa le valigie. Buon fine settimana per la... Ma il lunedì! No, in senso, ma tanto la gente... Qui c'è sempre... Tantare in guardia! La gente che gli importa lavorare venerdì, la gente aspetta... No, io... La gente aspetta al fine settimana, io voglio il casco da questa torta, tipo il cantiere, i caschi da cantiere. Grazie. Grazie.